In Consiglio Comunale l'avvertimento è stato lanciato. Il punto relativo al rendiconto di gestione del 2014 non andava neppure trattato per un vizio di fondo che potrebbe inficiarne la validità. Secondo Caetano Sanfilippo, infatti, il revisore dei conti Giovanni Cipriano, che ha espresso il proprio parere sul rendiconto, non può ricoprire l'incarico di revisore per tre volte, così come disposto dal decreto legislativo 267 del 2000. Cipriano, infatti, è stato eletto nel 1992 e nel 2012. C'è un vizio sostanziale che è quello del revisore dei conti. Il revisore dei conti che è stato eletto, a prescindere, ci tengo a precisarlo, dalla riconosciuta professionalità del soggetto, non era rieleggibile perché ciò è vietato dalla legge, perché lui aveva già ricoperto questo incarico per ben due volte. Quindi abbiamo chiesto che venisse ritirato il punto. I consiglieri Sanfilippo, Micale, Trusso e Gemmellaro hanno quindi chiesto un parere al segretario generale del comune di Capodorlando, sia sulla legittimità della terza elezione di Cipriano, sia sulla legittimità del parere espresso sul rendiconto. Abbiamo chiesto, a tutela dell'intero consiglio comunale e dei cittadini, un parere al segretario comunale. Valuteremo se puoi chiedere un parere aggiuntivo, perseguendo l'iter previsto dalla circolare 7 del 2008, anche all'assessorato regionale. Il giudizio sulla situazione economica del comune di Capodorlando rimane comunque negativo. Abbiamo depositato agli atti una relazione dettagliata sulle valutazioni che fanno emergere dei deficit per quel che riguarda la gestione del comune.